ciao amici io adoro i carciofi sono una delle mie verdure preferite e voi buoni sì ma come li cucini ecco un'idea per fare una ricetta sfiziosa se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video e per conoscere tante altre ricette sane e golose in descrizione trovate il link al mio interessantissimo libro alimentazione naturopatica che contiene il mio ricettario spaghetti di farro e carciofi ingredienti spaghetti di farro una carota una costa di sedano 8 cuori di carciofo 2 pomodori secchi un cucchiaio di olio extravergine di oliva un cucchiaino di brodo vegetale in polvere e sale quanto basta preparazione tagliare i carciofi a spicchi cuocerli in padella con un soffritto di olio brodo vegetale poca acqua dopo 5 minuti aggiungere la carota il sedano tagliati a dadini piccoli e i pomodori secchi a pezzetti cuocere finché le verdure non sono morbide aggiustare di sale cuocere gli spaghetti in acqua salata scolare e condire con il sugo che bontà è anche amica della salute intanto per vedere tanti altri video come questo iscrivetevi al canale attivate tutte le notifiche e abbonatevi al canale per sostenere il mio lavoro con un piccolo contributo mensile info in descrizione il farro è un cereale molto nutriente ricco di minerali e fibre i carciofi sono un alimento ipocalorico con pochi grassi perfetto per le diete dimagranti nei carciofi troviamo ferro potassio calcio e magnesio ottimi per il recupero contengono anche cinarina un principio attivo che stimola la produzione della bile e la sua immissione nel tratto intestinale per seguire tanti altri consigli detox in descrizione c'è il mio ebook sulla dieta detox oppure potete guardare i video di questa playlist mangia sano e vivi meglio